Fin dall'epoche più remote, l'uomo è stato testimone di strane apparizioni nello spazio e portato ad ammettere l'eventualità che si trattasse di creature provenienti da altri. Oggi, da ogni parte della Terra, siungono continuamente notizie che il cielo del nostro pianeta si è tolcato dalle traiettorie di misteriosi oggetti conosciuti come Pichimola. Pichimola, Pichimola. Guarda la distruzione, cosa lasceranno violenza e l'esorazione per la prossima accelerazione mentre sempre malato lasceranno figli crudeli che spetteranno la guerra ricordandosi di ieri. FUIL! 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 Ci sarà un giorno senza aria, senza acqua, senza sole, senza nulla, e ogni volta di paura è qua. FUIL! 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 F che mi chissà l'ora la forza U.A.U. 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 U.A.U.